Presidente Marsiglio, oggi a Giulianova in visita al centro demenza della ASL, un piccolo fioralocchiello della sanità che funziona. Un risultato conseguito dopo 18 anni di abbandono di una struttura che era stata destinata a questo scopo dalla generosità di una famiglia che ha lasciato un lascito testamentario, ma che non aveva mai visto davvero la luce. Durante il periodo Covid l'ASL l'ha utilizzato per gestire l'emergenza e per offrire un altro presidio e cominciare così a dare finalmente una destinazione sanitaria concreta a questa struttura che oggi vede la sua piena configurazione, la sua piena sviluppo, 25 posti per le demenze in fase acuta e in più si è anche associato a questa struttura il distretto trasferito dalla struttura originaria verso la Marina che era ormai fatiscente e inutilizzabile e razionalizzando gli spazi si è anche compiuta un'opera di ottimizzazione delle risorse e dei costi offrendo finalmente questo servizio anche in una struttura decorosa, moderna, completamente nuova di zecca, ristrutturata a nuovo.